andiamo a milano da serena ciao serena ciao ciao ragazzi ciao allora è arrivata la neve? allora no però freschino direi ma fresco dovrei beneficare forse domani e così ho visto dalle previsioni con molta gioia che bello deve essere andare lì in piazza Duomo con l'albero quello nuovo visto figo figo bello figo l'albero non sono ancora andata bisogna andarci una di queste sere tu che fai a milano serena? io ho un'attività praticamente vendo prodotti alimentari alla spina faccio bomboniere gastronomiche mangio e mi diverso vanno molto di moda questi negozi dei prodotti alla spina no? allora devo dire che adesso una moda in realtà io lo svolgo da dieci anni tanto che se posso permettermi di raccontarvi questo dettaglio adesso è nato un nuovo portale sui prodotti sfusi prego e praticamente danno un incentivo a chi allestisce dei corner e a me non lo danno perché io non allestisco un corner e dieci anni che ho un negozio no c'è solo che ho un corner lei che c'è tutto il negozio non gli hanno questo beneficio si ritorna a fare la spesa come si faceva prima dei supermercati no? quando si andava dice vai a comprare un chilo di pasta e te la mette là te la incartavano oppure basta riso il sapone il sapone certo bene bene nel mio caso oli aceti anche quindi cosa è qual è il prodotto più acquistato? e allora l'olio e la parte alcolica devo dire è il vino senti ma hai parlato di bomboniere gastronomiche? esatto cosa intendi? cosa intendi per voi? intendo che praticamente le persone possono scegliere e assaggiare qua tutto quello che vogliono come vi dicevo gli oli gli aceti di frutta la parte alcolica ah ok poi se piacciono uno capito io posso posso regalarti una bomboniera gastronomica se ti piace e poi torni e vai e compri bravissimi possiamo venire a lavorare da te allora dai come si chiama il tuo negozio? colori e sapori colori e sapori a milano colori e sapori a milano grazie ragazzi sconto del quindici per cento perché dice che ha ascoltato la pubblicità su radio capital no di benny che ascolta benny andrea che ascolta benny andrea su radio capital allora serena partiamo anzi parliamo di cose più serie perché parlavamo di mozart di questa esecuzione del pezzo la commissione si convinse del fatto che era davvero un bambino mozart e quando durante l'esecuzione di un pezzo che successe? che successe? e fu distratto dal passaggio di un gattino e quindi questo fu la prova allora lui era talmente bravo che uno dice non può essere questo sia un bambino cioè deve essere un adulto a cinque anni già praticamente sapeva fare tutto a otto anni scrisse la prima sinfonia era incredibile cosa che abbiamo fatto tutti a otto anni ma certo era davvero un genio va bene allora ti arriva a casa il disco un disco in venire del subsonica e un abbraccio buon natale bravo anche a voi tanti auguri ciao serena ciao grazie ciao